In Piemonte da oggi ci sono 120 nuovi ambasciatori del Consiglio regionale, studentesse e studenti delle scuole superiori che avranno il compito di trasmettere, secondo il principio dell'educazione tra pari, culture e nuove competenze ai compagni più giovani delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La premiazione, la consegna dei sigilli e dei riconoscimenti si è svolta durante il Salone Internazionale del Libro di Torino, negli spazi dell'Arena Piemonte. Sono diventati ambasciatori i ragazzi e le ragazze che durante l'anno scolastico, affiancati dai loro insegnanti, hanno partecipato alla seconda edizione del progetto di alternanza scuola-lavoro che il Consiglio regionale del Piemonte, unico in Italia, propone agli istituti superiori. Scuola per scuola, gli studenti hanno approfondito temi quali la cittadinanza attiva e la cultura della legalità, la lotta alle discriminazioni, i sani e corretti stili di vita e la conoscenza delle istituzioni europee. A essere premiati sono stati l'Istituto Tommaso Doria di Cirie, il tecnico Calamandrei di Crescentino, il liceo Valsalice di Torino, il liceo Gramsci di Ivrea e il liceo Cattaneo di Torino. Il nostro progetto è nato grazie a un'idea della professoressa Randone che ci ha proposto di fare una ricerca sull'Unione Europea e da lì noi ci siamo attivati per trovare più dati possibili, per sviluppare dei grafici oppure per capire che cos'è veramente l'Unione Europea e questo progetto ha il fine di farci comprendere veramente che cos'è l'Unione Europea e di diventare proprio noi cittadini dell'Unione Europea e di avere una possibilità magari un giorno di andare a votare magari alle elezioni o cos'è del genere e sapere quello che facciamo. Premiati sempre nell'ambito dell'incontro la costruzione di un bel futuro anche 25 studenti che ideando e realizzando video informativi e di denuncia hanno partecipato al concorso cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro. Il riconoscimento è andato agli istituti pellati di Nizza Monferrato, in Audi e da Vinci di Alba, del Pozzo di Cunio e liceo Carlo Alberto di Novara. Abbiamo fatto questo video partendo appunto anche con la collaborazione di psicologi e quindi ci siamo formati sul campo attraverso anche dati del CERT della nostra zona e poi attuandoli quindi anche nel video abbiamo unito quello che è la psicologia del ludopatico con la sua patologia quindi abbiamo realizzato un video dove si vedeva appunto che la macchina, cioè lo stesso gioco veniva visto quasi come una persona e quindi si instaurava un rapporto di odio, di amore, quindi un rapporto morboso.